Buongiorno da Telpresso Italia, primo piano nota stampa di lunedì 27 dicembre. Sulla stampa.it e cittadino di Lodi, gli auguri di Natale da Beirut del ministro della difesa Guerini. Il ministro ha infatti trascorso la vigilia di Natale in Libano con i militari del contingente italiano. Nel corso della mattinata ha incontrato il primo ministro Mikati e il ministro della difesa Slem. Ho voluto essere qui, la vigilia di Natale, per portare personalmente a tutti voi e attraverso voi, a tutti i militari in missione all'estero, il saluto riconoscente e grato del governo e dell'Italia intera, insieme all'augurio di trascorrere in serenità, anche se lontano da casa, le eminenti festività natalizie e di fine anno, ha detto Guerini, ai militari impegnati nella missione internazionale nel Paese dei Cedri. Virus, il commissario Figliuolo parla al Corriere. Il mio piano contro le varianti dice, vaccinazioni e screening nelle scuole, solo con le immunizzazioni fermiamo l'ondata. È in arrivo Novavax, spero che aiuti a convincere chi ancora ha dubbi. E aggiunge, lo screening nelle scuole verrà organizzato così. Ogni regione metterà a punto un dispositivo e, grazie alla grande disponibilità del ministro alla difesa Guerini, avremo il supporto dei team e dei laboratori militari. Prima della pausa natalizia, il personale militare ha effettuato oltre 18.000 tamponi in 470 istituti scolastici. La difesa, che è prontamente scesa in campo sin dall'inizio della pandemia, sta attualmente impiegando a sostegno delle regioni una parte importante delle proprie risorse di personale e di strutture specializzate che operano in un ampio spettro di attività. Lo screening è una di queste. E ancora del generale Figliuolo si parla sul tempo, perché una decina di giorni prima di Natale era filtrata la notizia di un possibile spostamento sotto la protezione civile della struttura commissariale guidata da Figliuolo. Si era vociferato anche di un passo indietro del generale che sarebbe stato chiamato la guida del comando operativo di Vertici Interforze. Quel nuovo incarico militare, in effetti, Figliuolo lo ha ricevuto, rimanendo però anche saldamente alla guida del contrasto all'emergenza coronavirus. Lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre, ma l'impegno attuale del commissario è destinato a durare almeno fino al 19 giugno. Il commissario Figliuolo oggi arriverà in Piemonte, come riporta la stampa, per risolvere il caos, prenotazioni che sono bloccate e ci sono pochi medici, ore di attesa e proteste, almeno 375 mila convocazioni sono da riprogrammare, una situazione che va risolta urgentemente. Il Tempo Roma racconta la missione Salva Vita con il Falcon dell'Aeronatica per un bambino malato che si è conclusa positivamente. A bordo c'era un paziente di soli 10 anni per il quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall'azienda ospedaliera di Catanzaro all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. RV taglia il personale in esubero, riporta Unione Sarda. La situazione lavorativa a partire da gennaio subirà una forte contrazione che porterà ad una riduzione di personale che interesserà circa 90 lavoratori, i quali si aggiungeranno ai 250 già espulsi dal ciclo lavorativo negli ultimi due anni. Sono le parole della DRVM Italia Fabio Sgarzi. Uno dei motivi della crisi, la totale assenza di contratti da parte del Ministero della Difesa italiano, al quale viene chiesto un tavolo urgente insieme al Mise. In orbita, web, il super telescopio ci farà vedere, ci darà l'opportunità di vedere l'universo bambino, scrivono il Corriere ed altri quotidiani. A capo della missione, l'italiano Stiavelli. Risaliremo a poco dopo il Big Bang, una rivoluzione, dice. Tra i temi esteri, virus in Germania, crollano i contagi. È la stretta contro i Novavax, scrivono il messaggero e tutti i quotidiani. Le drastiche restrizioni per i non vaccinati stanno dando i suoi frutti. Calano i contagi e i decessi. Ma ora si teme l'ondata Omicron e si spinge l'acceleratore sui vaccini. Stessa musica in Austria, dove ieri i nuovi contagiati sono stati appena 1.700 contro i 15.000 di un mese fa. La Germania e l'Austria sembrano aver spezzato la quarta ondata da coronavirus, evidenzia anche la Repubblica. Sulla stampa il boom di contagi nel Regno Unito, 2 milioni di casi. A Londra, 1 su 10 è positivo al virus. Centinaia di migliaia di persone si mettono in auto-isolamento. Il picco di infezioni nel paese registrato la vigilia di Natale ed è il record di contagiati in Francia con 100.000 in un solo giorno, scrive Il Tempo. Secondo la verità, il Covid ha ingrassato il capitalismo cinese. Le aziende dei Stato cinesi festeggiano il secondo anno di pandemia con profitti in crescita del 40%. Il Natale dei migranti in mare. Un neonato tra i mille salvati riportano la Repubblica ed altri quotidiani. I 900 sbarcati in due giorni tra Calabria e Sicilia, ma le navi delle ONG del Mediterraneo operano senza sosta. Mentre sbarcano oltre 900 persone in due giorni, a largo delle coste italiane, ne restano almeno altre mille a bordo di Geo, Barents e Sea-Watch 3, che attendono un porto sicuro. La strage di Natale riporta anche la stampa. Naufragio a largo della Libia. 28 morti tra i cadaveri. Sulla spiaggia anche un bimbo. Migranti. Boom dei permessi di lavoro. Con la spinta degli imprenditori leghisti, scrive Il Corriere, i perché dei 70.000 ingressi annunciati da Draghi, dopo sei anni in cui sono stati meno della metà. Agnelli di Confimi sostiene che il decreto flussi a 70.000 permessi è insufficiente, mentre per marcato assessore del Veneto, gli arrivi devono essere strettamente proporzionali alle esigenze. Potremmo pensare a permessi a tempo. La verità attacca con la morgese al Viminale i migrati se stuplicati e colpevoli di un reato su tre. Secondo il sottosegretario della Lega Molteni, che parla la verità, gli sbarchi sono fuori controllo, mentre agli italiani vengono imposti di vieti. Europeismo, l'eccezione francese. Così Roma e Berlino staccano Parigi. Sul Corriere solo il 29% vuole una Unione Europea più integrata. Un brutto segno per Macron, i cui connazionali sembrano meno europeisti del loro presidente. Nel 2022, PIL mondiale oltre i 100 mila miliardi, l'Italia rimane ottava, ma solo se resta Draghi. È la previsione del Center for Economics and Business Research, riportata dal giornale, secondo il quale la Cina strapperà agli Stati Uniti lo scettro di prima economia al mondo nel 2030, con 24 mesi di ritardo sui calcoli precedenti. L'addio a Tutu, piegò l'apartheid senza violenza, riportano il messaggero e tutte le testate. È morto all'età di 90 anni l'arcivescovo anglicano, che insieme a Mandela diede vita a Sudafrica di oggi. Fu nobel per la pace nell'84. Harris, più in declino di Biden, è l'approfondimento di Rampini sul Corriere, sul ritratto della vicepresidente americana. È la più impopolare degli ultimi quattro vicepresidenti, scrive. I media oggi ne parlano come di una incompetente, arrogante e a tratti isterica. Sulla Repubblica ed altri quotidiani, il nuovo attacco alle donne di Kabul, vietato per loro viaggiare senza un uomo. Un decreto dei talebani proibisce infatti spostamenti oltre i 75 chilometri per fermare i tentativi di fuga. E per l'economia arriva la precompilata IVA per imprese e professionisti. Ruffini, dell'Agenzia delle Entrate, parla al messaggero. Nel nuovo anno arriveranno procedure più semplici per i contribuenti, assicura. Coinvolti in 2 milioni, con la fattura elettronica, uno strumento che agevole e semplifica il lavoro quotidiano, il gettito è cresciuto di 2,5 miliardi. Sul messaggero la corsa ha super bonus, la detrazione piena solo fino a 2023. Nel 2024 l'agevolazione scenderà al 70% e l'anno dopo al 65%. Per le villette va completato il 30% dei lavori entro fine giugno. Assegno unico, meno soldi per un milione di figli, riporta la Repubblica. Con la riforma in arrivo spariscono le detrazioni. Arriverà un contributo sulla base del reddito ISEE. Così 746 mila famiglie perderanno in media 503 euro, ma per altre il contributo salirà. A fare i calcoli è l'ufficio parlamentare di bilancio, l'autority dei conti pubblici. E di lavoro povero parla la stampa. Uno studio di esperti del Ministero riporta infatti che è sotto la soglia un addetto su 10. E non bastano i minimi salariali, dicono. Serve un piano complessivo per combattere la povertà lavorativa. Una molteplicità di strumenti per sostenere i redditi individuali. Aumentare il numero di precettori di reddito. E assicurare un sistema redistributivo efficace. Una delle misure necessarie riportate nel focus. Il presidente di Unicredit, Padoan, parla alla stampa. Sul recovery l'Italia non può sbagliare. Rischiamo di bruciare credibilità e crescita, dice. Le acquisizioni devono far diventare le banche più europee. Abbiamo una buona strategia. Non pensiamo a MPS. Il patto di stabilità va riformato. Il livello del debito non è decisivo. E aggiunge Draghi, sta facendo un eccellente lavoro. Il sole segnala un 2022 di rincari per energia e casa, bollette e nuovi aiuti. Noto sondaggi, riporta che per due italiane su tre sono in arrivo altri aumenti anche sul cibo. E l'inflazione precipita a più 5,3% nel 2021. Abitazione più 11%, istruzione salute più 5%. Le misure del governo ancora sul sole per alleggerire i rialzi. In manovra l'intervento contro il caro energia per famiglie in macro-imprese. Draghi assicura il sostegno a imprese e famiglie ci sarà, e se necessario, come sembra, oltre quello che è stato già deciso. Ed infine, per la politica in evidenza ancora dilagare dei contagi e rischio paralisi, scrivono alla stampa e tutti i quotidiani. Positivo, un tampone su 10. Sono 2,5 milioni le persone in quarantena. Secondo gli esperti, si rischiano 100.000 casi a gennaio. E si apre il dibattito sul ripensamento della quarantena. Con Libero, che definisce un paradosso del virus, il fatto che un milione di italiani sia costretto a casa senza alcun sintomo, Bassetti propone l'isolamento solo per i contagiati, non per i contatti, scrivono il Corriere ed altre testate. Ma il sottosegretario Sileri al Libero dice no. Per ora rimarrei con queste regole, almeno fino a quando non conosceremo meglio la nuova variante. I vaccinati comunque hanno già una quarantena più breve, 7 giorni anziché 10. L'astrofisico Battiston alla stampa propone il lockdown per i non vaccinati, perché servono nuove regole davanti alla corsa di Omicron. O, avverte, ci sarà un lockdown di fatto. E a Brignani del CTS al Corriere dice i non vaccinati occupano l'80% dei posti nelle terapie intensive. Va imposto l'obbligo. Il generale Figliuolo al Corriere sottolinea il piano per arginare la nuova variante che si basa su screening nelle scuole terze dosi per tutti. Aumentare il numero di persone vaccinate che hanno ricevuto il buster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora con oltre 108 milioni di somministrazioni. La campagna sta viaggiando a un ritmo molto elevato, pari a quello della scorsa primavera. Siamo a oltre 523 mila dosi al giorno. Ricciardi al messaggero aggiunge bisogna accelerare sulla terza dose, poi ci sarà bisogno di una quarta, ma non prima di maggio-giugno. A gennaio andremo oltre i 100 mila casi, ma non credo tornerà il lockdown totale. Tra i temi politici in primo piano sempre le strategie per la corsa al Quirinale. La stampa registra la sfida di Draghi ai partiti, serve una svolta entro il 10 gennaio. Berlusconi intanto, tra video e quadri in dono, prosegue nella sua campagna a caccia di consensi anche oltre il perimetro del centrodestra, scrive La Repubblica. Ma la sua candidatura, secondo il messaggero, crea imbarazzo anche nel centrodestra, contro la candidatura del leader di Forza Italia, in campo anche il popolo viola. Il 4 gennaio, gli ultrasanti Silvio, in piazza per scongiurare la corsa al Quirinale, riporta Libero. E mentre la caccia ad un nome condiviso anche da PD e Movimento 5 Stelle, passa per la rinuncia di Berlusconi. Salvini e Renzi provano a fare asse per una candidatura alternativa che permetta a Draghi di restare al governo. Il premier detta però la linea dopo lo stop dei partiti e alla sua salita al colle. Se rimango a Palazzo Chigi, garantitemi libertà di scelte, scrive il giornale. Ma Guido Crosetto, alla verità, dice Penso che se Draghi sarà eletto al Quirinale sarà più forte di adesso e individuerà lui stesso un premier che non faccia ombra a nessun partito un altro tecnico. Né Draghi né Berlusconi la spunterà a Casini. Questa è invece la profezia di Umberto Bossi alla stampa, mentre il Corriere evidenzia come i 58 voti delle regioni saranno decisivi nella corsa al colle. Sulla Repubblica le stime elettorali di Demos riportate da Diamanti, PD al primo posto con il 20,7%, seguito da Fratelli d'Italia al 20,1% e Lega al 18,8%, Movimento 5 Stelle al 16%. È tutto per questo appuntamento, una buona giornata da Telpress Italia.